...e un miglioramento. Stop a salumi, biscotti e formaggi italiani in Gran Bretagna. Arriva un bollino rosso che li sconsiglia in una sana alimentazione. Carlotta Manno. Sono tra gli elementi più sani della dieta mediterranea, quantomeno l'olio e il parmigiano, che dire agli inglesi, e del loro tè con i biscottini pieni di burro. Poi ho mangiato grana, prosciutto. Ce le copiano tutte, infatti. Ad indignare gli italiani l'iniziativa del Ministero della Salute inglese di mettere il semaforo rosso su alcuni alimenti considerati dannosi per la salute. Il semaforo sui cibi tiene conto di calorie, grassi compresi quelli saturi e zuccheri. Nel mirino pensate un po' soprattutto prodotti italiani, olio, prosciutto, formaggi, salumi e biscotti. In cima alla lista proprio il prosciutto crudo e il parmigiano. Vogliono tassare i nostri cibi, vogliono crearci problemi per poter riutilizzare i loro cibi, che non hanno la nostra qualità. Italia, ma non solo. Il semaforo della Spagna, lampeggia rosso a caso del jamon serrano, e quello della Francia per il camembert. L'Europa del sud insorge, favorevole al provvedimento, invece l'Europa del nord e l'Inghilterra rilancia. Pensiamo alla salute dei nostri bambini. Noi dobbiamo spiegare a questi bambini inglesi che devono fare tanto movimento, sia nelle scuole, sia dopo la scuola. Perché questo è un mondo, un'Europa, e soprattutto l'Inghilterra, una nazione che si muove poco. Infatti loro sono molto grassi e sono poco longevi.